Roberto Messina, presidente di Federanziani, perché oggi Federanziani è presente a Torino? Beh, io credo che per la prima volta in Italia sia iniziato qualcosa che possiamo dire che è importante festeggiare, ovvero il Festival della Salute. Oggi abbiamo cominciato qui a Torino proprio per lavorare e festeggiare un capitolo nuovo, quello della prevenzione. La prevenzione soprattutto in ambito oncologico e soprattutto in ambito oncologico geriatrico, ovvero degli anziani. Da qui al 2020 noi avremo una popolazione che sarà quasi del 30%, over 65 e quindi degli anziani. E se vogliamo tutti insieme mantenere in asse e non mandare in default il nostro sistema sanitario, dobbiamo fare in modo che i cinquantenni di oggi comincino a fare una corretta prevenzione, un corretto stile di vita, una corretta nutrizione, ma anche prima dei cinquant'anni, affinché si possa arrivare alla soglia delle pantere grigie in salute e soprattutto far sì che meno gente si ammali di una patologia oncologica che costa vite, costa molto tempo, costa sofferenze e costa molto al nostro sistema sanitario nazionale. Quindi va festeggiato che istituzioni, la Regione, il Comune, l'AIFA, organizzazioni come stakeholder, come federanziani e tanti altri, sono tutti riuniti per imparare un nuovo stile di vita e soprattutto quello di prevenire le patologie oncologiche.